Esplosioni in sequenza, il fuoco che divampa rapidamente verso il cielo e una corona di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sono i primi momenti del vasto incendio che ha colpito questa notte l'area portuale di Ancona. Immagini terribile quelle che arrivano dal capoluogo marchigiano, che fortunatamente non hanno causato vittime o feriti, ma che hanno suscitato paura e terrore, soprattutto tra gli operai e gli addetti ai lavori presenti sul posto al momento dell'accaduto. Le fiamme scoppiate mezz'ora dopo lo scoccare della mezzanotte, che hanno richiesto l'intervento di 12 squadre dei vigili del fuoco, alcune di queste provenienti anche da Macerata e Pesaro, hanno interessato un capannone nell'area centrale del porto, il deposito della ex Tubimar. Magazzino che si stende su una superficie di 40.000 metri quadrati contenente materiale per lo stoccaggio. Paura anche per l'eventuale tossicità delle sostanze presenti all'interno del capanno. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale di Ancona di chiudere scuole e parchi e l'invito a limitare il più possibile gli spostamenti restando in casa e tenendo chiuse le finestre. Intorno a mezzogiorno si è poi riunito il centro operativo comunale per discutere le linee guida da intraprendere. L'amministrazione ha però rimandato nell'arco della giornata qualsiasi decisione relativa alla proroga della chiusura delle scuole, in attesa di conoscere i risultati degli esami di ASUR e ARPAM sulle condizioni dell'aria. Allo stesso tempo è stato però sottolineato che la centralina della città ha evidenziato il picco delle PM1 questa mattina alle 8, il quale è andato poi a calare nelle ore successive. Antonio D'Acunto, prefetto di Ancona, ha spiegato che è ancora troppo presto per stabilire le cause che hanno dato origine al grande rogo. Tutte le piste rimangono però aperte e al vaglio degli inquirenti, anche se attualmente non sono stati rinvenuti elementi per accertare il carattere doloso dell'accaduto. Dell'aria colpita dalle fiamme sono rimaste soltanto macerie. L'incendio, che dal capannone centrale si è poi sviluppato anche in altre strutture, è stato prontamente circoscritto già durante le ore notturne. A partire da questa mattina sul posto, per continuare le operazioni di spegnimento di tutti i focolai che si sono andati a creare vista la rapida estensione delle fiamme creata dal vento, sono rimasti unicamente i vigili del fuoco del capoluogo. I rinforzi provenienti dal comando di Pesaro sono invece rientrati in città, come affermato dal capo squadra Mirko Sambuchi. Sul posto erano già presenti le squadre del comando di Ancona, tutte le strutture interessate erano strutture del vecchio magazzino adiacenti al porto, sicuramente per il messaggio materiale in disuso, vedi resine, barche, bombolame, carta e quant'altro, ma ancora è al vaglio sicuramente del personale di Ancona da visionare nella giornata di oggi, perché ancora l'incendio è attivo. Erano sul posto anche tutti i mezzi aeroportuali per lo spegnimento dell'incendio. Come squadre di Pesaro siamo stati utilizzati nella salvaguardia del contenimento dell'incendio rispetto all'azienda della ditta Sol, che fanno un cameramento in bombole di materiali gasosi, gas inerti, acetileni, ossigeno liquido, azoto e anche aria per manufatti e condotti respiratori ospedalieri. Siamo stati tutta la notte a presidiare il sito, che non è stato interessato affatto dalla parte dell'incendio perché era una distanza sufficientemente utile per tutelarlo. Questo è quanto e questa mattina in accordo con il funzionario, l'ingegnere presente sul posto abbiamo valutato che la nostra squadra poteva rientrare il comando di Pesaro e rimaneva a copertura una squadra del comando di Ancona.